Ehi Berilli, siamo in questo nuovissimo video solo per informare dell'uscita della nuova mitraglietta presto disponibile su Fortnite. Mitraglietta di erenità epica e leggendaria eccellente nei combattimenti in Milskia, quindi sarò una mitraglietta che sostituirà o il mitraglione o anche la mitraglietta tattica che se ne è andata a posto di quella nuova. Non lo so, è un'arma che si è vista nei diversi quad, quindi non sarà nuova, cioè diciamo, non sarà una novità per tutti e niente, io spero che sia stato utile per chi non lo sapeva ancora che martedì esce la nuova gans dalla B-Willy.